Abbiamo voluto fare questo focus per presentare gli specialisti della sicurezza sia a livello preventivo, sia a livello di pronto intervento, sia come misure di prevenzione tipiche del questore, che ha una competenza specifica in materia, e sia a livello repressivo. Quindi paragonando un po' la questura e le forze di polizia, chiamiamolo così, policlinico, per usare un termine medico della sicurezza, volevamo presentare agli specialisti, soprattutto, oltre che dare dei dati che le distribuiremo a livello provinciale, affinché ciascuno di voi possa farsi le proprie convinzioni, ma soprattutto per lanciare il messaggio alle vittime di violenza di genere che le forze di polizia sono a loro disposizione, lo sono fattivamente, lo sono con delle professionalità altamente specializzate. Noi abbiamo avuto in provincia di Pescara, in quest'ultimo anno, della sola sala operativa della questura, 386 interventi per richieste di tematiche di genere, in particolar modo la tipologia è quella delle cosiddette liti in famiglia, noi le classifichiamo con un gergo poliziese in questa maniera, all'interno del quale poi si nascondono anche le situazioni particolarmente critiche, anche di violenza, e circa una trentina di queste chiamate poi sono state isolate e inserite in un particolare database chiamato Scudo dall'anno scorso e quindi queste situazioni vengono particolarmente attenzionate. Ci sono stati numerosi arresti, ci sono stati diversi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, i seguiti con la quale agiamo in perfetta sintonia e quindi il messaggio è quello di rivolgersi agli specialisti che sono le forze di polizia. In questa direzione noi il messaggio che lanciamo è questo, non è la denuncia che è un antefatto, quello che ci interessa è di comunicare che le persone maggiormente a rischio saranno personalmente e costantemente seguite dagli specialisti, i quali sono ben lieti di fornire anche il numero di telefono, perché noi non offriamo un approccio burocratico al problema, nel senso di ricevere la denuncia e poi di trasmetterla aspettando gli esiti processuali che potrebbero essere tempestivi, ma in ogni caso l'autorità di pubblica sicurezza, incardinata a livello tecnico da quest'ora, ha il dovere di essere vicino alle vittime di violenza e quindi le vittime di violenza non solo sporgeranno una denuncia e poi torneranno tra virgolette dal carnevice, dall'aggressore o dallo stalker, ma devono sapere che in ogni momento di qualsiasi giornata e di periodo possono chiamare gli specialisti che sono in grado di intervenire immediatamente.